L'avvertenza della Intex non può essere più affrontata a livello locale e va fatta diventare un'emergenza nazionale, un tavolo su cui il governo e le parti sociali debbano discutere. Ad affermarlo è stato il segretario generale della CGL, Susanna Camusso, incontrando i lavoratori in cassa integrazione dell'azienda Intex, che la attendevano al suo arrivo questa mattina davanti all'auditorium del Parco del Castello dell'Aquila, dove ha partecipato poi all'Assemblea Sindacale sulla proposta di legge di iniziativa popolare della Carta dei Diritti Universali del Lavoro. Il 70% dei 107 lavoratori dell'azienda Aquilana, che si occupa di ricerca in telecomunicazione, è oggi in cassa integrazione a rotazione e per la Intex c'è dietro l'angolo lo spettro della chiusura. L'azienda attualmente occupa 104 ricercatori, il 70% è in cassa integrazione straordinaria e di fatto non ci sono attività importanti da seguire e soprattutto non ci sono prospettive per il futuro. Noi sappiamo che l'azienda avrà intenzione, alla fine di un percorso di ammortizzatori sociali, di ridurre drasticamente l'organico e di portarlo a una trentina di unità. In una città che vuole diventare un centro di eccellenza nella ricerca non è un po' anomalo? Esattamente, è un paradosso a tutti gli effetti. È proprio questo che ci ha indotto oggi ad incontrare il segretario generale della CGL, proprio per evidenziare questo paradosso, anche alla luce delle recenti parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Mattarella, che richiama la nazione ad avere attenzione verso la ricerca e l'innovazione.